Saranno celebrati domani i 30 anni di autonomia amministrativa del comune di Stintino. La cerimonia che vedrà la partecipazione dei primi cittadini che si sono succeduti alla guida del paese si svolgerà nella sala consigliare alle 17. L'8 agosto del 1988 rappresenta per Stintino una data storica, quasi come la nascita dello stesso paese. In quel giorno d'estate di 30 anni fa il borgo dei pescatori si trasformava da circoscrizione comunale di Sassari in comune autonomo, diventando così un punto di riferimento per il nord-ovest della Sardegna. Domani nella sala consigliare al tavolo dei relatori, dopo i saluti del primo cittadino Antonio Diana e della Presidente del Consiglio Comunale Marilena Gadau, si alterneranno Veronica Benenati che leggerà un ricordo su Gavino Benenati, primo sindaco di Stintino che mantenne la fascia tricolore dal 1989 al 1991. Quindi sarà la volta di Giovanni Greco che fu sindaco dal 1991 al 1998, di Lorenzo Diana che indossò la fascia dal 1998 al 2007. A chiudere gli interventi dei primi cittadini sarà Antonio Diana che riveste la carica da tre mandati, iniziati a giugno del 2007. Protagonisti dell'autonomia furono anche componenti del comitato che portarono all'autonomia. A chiusura della manifestazione sarà inaugurata la statua che celebra appunto il trentennale.